Sono sollevate da terra perché qui stiamo sotto il livello del Tevere e quindi se no c'è molto più. Ma la cosa che hanno tutte è gli occhi che sono entrati in dentro perché i bambini a tutti gli infilavano le dita dentro e quindi trovi sempre i bambole che hanno gli occhi dentro che girano, che stanno così. Con il boom economico le persone, la cosa si è stesa e quindi molti, e sono nati i primi collezionismi, le piccole collezioni, la voglia di riparare cose vecchie e quindi il negozio è proliferato così. Come tutto le cose si trasformano, cambiano, finiscono è anche giusto che un tipo di epoca abbia una sua durata. Noi abbiamo cercato che questa durata sia lunga, 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 lunga. arriverà il momento che finirà anche questa.